Per allora questa sera ci hanno messo pressione dal primo punto, è stato impossibile tenerli testa, percentuali spaventose per Engapete e Vettori. Ma loro hanno giocato molto meglio di noi, ci hanno messo sotto pressione in battuta, noi non siamo riusciti, nessun fragmento del nostro gioco di esprimere a livelli nostri, soprattutto soffriva il nostro cambio palla dell'inizio e di conseguenza non eravamo sciolti di niente. Le poche occasioni che abbiamo avuto soprattutto nella metà del secondo set, quando eravamo attaccati, due o tre situazioni, una palla alta, non le abbiamo sfruttate e da lì in poi era impossibile perché loro hanno veramente giocato bene stasera. E cosa è mancato? Il gioco l'ho appena detto, la domanda è scontata, noi abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio, ho spiegato per il cambio palla, da lì la nostra squadra è andata in difficoltà e di conseguenza provando di battere e non andava bene, non siamo riusciti mai a metterli in difficoltà con la recensione, era impossibile. Adesso bisogna cancellarlo subito? C'è già giovedì la possibilità? No, non bisogna cancellarli, le partite come queste ci insegnano tante cose, noi li prendiamo come esempio, li analizziamo bene, queste partite ci fanno vedere dove sono i nostri problemi, dove sono i nostri punti deboli, come dobbiamo comportarci in certi momenti, quindi non bisogna cancellare mai niente.